Salve a tutti, bentornati su Terre Siciliane. Oggi siamo di nuovo con i nostri appuntamenti di Che usa il campo, non va dalla corte, in compagnia di Renato Cervo, che ci parlerà di agricoltura rigenerativa. Grazie di essere qua Renato, ciao, come stai? Ciao, molto bene, grazie a voi, piacere di essere qui con voi e adesso chiacchiereremo un pochino. E facciamo questa chiacchierata insieme a Barbara. Ciao Barbara, bentornata, come stai? Ciao, ciao a tutti, benissimo, grazie. Bene Barbara, allora, quindi ci siamo così dati questo appuntamento insieme a Renato, perché lui fa un sacco di cose interessanti, no? Sì, lui è una fonte di sapere. Questo è tanto. Ebbè, spirito. Bene, allora, spiegaci un po', Barbara, dai, cos'è Renato? Allora, Renato è uno chef, è uno chef di cucina da sempre, 5 anni fa con la moglie, dove hanno un centro yoga, hanno messo le mani in terra, un po' anche per collegarsi, no? Tra spirito e mente, e hanno deciso di piantare questo vigneto e di amarlo, curarlo con trattamenti totalmente naturali, che adesso Renato ci racconterà, e la Terra lo ha ringraziato con amore e con quello che c'è di più buono poteva offrire per la gratitudine verso Renato e Viviana. Per cui io lascio lo spazio Renato, perché ci sono talmente tante cose interessantissime che lui ci può raccontare, e spero che sia spunto per altri viticoltori, per seguire il suo, con il suo esempio e coltivare i vigneti con amore. Prego Renato, dici innanzitutto questi, questi favolosi i tuoi vigneti, come li curi? Allora, intanto grazie della parola. Allora, come hai accennato benissimo tu, qualche anno fa, cinque anni fa, avevamo questo pezzo di prato intorno a casa, e abbiamo deciso di tenerlo in ordine, invece di lasciare solo dell'erba da sfalciare, di tenerlo in ordine. Visto che da sempre lavoro all'interno del settore ristorativo, abbiamo pensato che poteva essere una cosa bella mettere dei vigneti, anche con un po' di ricordi della nonna di Trento, la mamma di mia madre, e quindi con i ricordi di quando venivo lasciato su a correre per questi vigneti, una cosa e l'altra ci ha portato a questa cosa. Come ultima cosa, non meno importante, forse la più importante, come dicevi tu prima Barbara, è stata una voglia di rimettere radici. Nel senso, io sono sempre stato in giro, poi con il centro yoga, massaggio e così, e logicamente tanti tipi di studi ti portano ad andare più sulla parte alta, diciamo mentale, anche se non è proprio giusto, o comunque a salire un pochettino di vibrazione, quindi avevamo bisogno di qualcosa di nuovo che ci portasse a radicamento, e da qui è nato il vigneto. Il vigneto per noi è il giardino, è il giardino fuori casa, quindi proprio per questo abbiamo deciso di gestirlo in una maniera, diciamo, completamente naturale. Abbiamo da subito iniziato con degli elementi di elettrocoltura, perché proprio quando abbiamo messo giù l'impianto abbiamo conosciuto Andrea Donnoli, che stava già portando in giro tutta l'idea dell'elettrocoltura in Italia, portata dalla Francia, perché l'elettrocoltura deriva dagli studi di un certo Cristo Flo, che a cavallo del 1900, quindi dal 1890 fino al 1933, ha portato avanti nella seconda parte della sua vita, come studioso e ricercatore, proprio la ricerca di questa cosa che ha definito un po' elettrocoltura. Cos'è? Non sono state altro che delle esperimentazioni che hanno dimostrato quanto la pianta, anche l'essere umano, ma in questo momento stiamo parlando di pianta, riesca attraverso la gestione del magnetismo e della parte elettrica che ci circonda naturalmente, vivendo noi su un magnete, quindi come venivano influenzate positivamente le piante, crescendo di più, resistendo maggiormente alle malattie in generale che loro hanno, in questo caso nel mio caso le fungine più che altro, facendo delle produzioni molto più elevate e le produzioni stesse sotto analisi davano delle caratteristiche completamente diverse da quelle gestite in maniera tra virgolette normale, non in elettrocoltura, perché all'interno di questi frutti, diciamo, che poi spaziano proprio da frutto a cereali e tante altre cose, il prodotto aveva in sé maggiori microelementi, più sali minerali, era veramente più ricco energeticamente. E questa è un po' la storia in veloce di quello che è la partenza dell'elettrocoltura e da dove nasce, anche se vengono usate anche tante altre tecniche che sono agganciate ad altri studiosi, tipo Lakovsky e altri qui, anche qui da noi, ad esempio nel periodo sotto la seconda guerra mondiale, con un decreto reggio di Mussolini, nella bassa Italia, attraverso l'elettrocoltura si sono create le ibridazioni che hanno portato ad alcuni dei grani che ancora attualmente adoperiamo, tipo il senatore cappelli. Quindi queste sono cose che magari non sono sui libri di testo di tutti, però è una cosa che qui da noi veniva usata molto fino all'arrivo della concimazione chimica, si può dire. Allora, come vi stavo accennando, la maggior parte delle cose che facciamo in vigneto sono legate all'elettrocoltura. Perché? Perché l'elettrocoltura non è solo un modo di far sì che le piante lavorino con quello che è il normale magliettismo terrestre e il differenziale magnetico che esiste, però ci sono anche tanti altri tipi di approccio che servono perché questa energia, definiamola così, riesca a lavorare e a espandersi all'interno di un certo tipo di territorio o di appezzamento, in questo caso che si tratta di agricoltura. Perché? Perché come una rete elettrica, per spiegarlo in maniera molto semplice, se c'è una centrale che genera energia ma non c'è un collegamento che porta alle varie strutture, l'energia in sé rimane lì. E quindi per far sì che questa energia che noi cerchiamo di immettere nel nostro sistema vigneto venga portata in giro, usiamo tante altre tecniche che servono proprio per aumentare nel terreno i microrganismi, le micorizie, la gestione dei funghi, come dopo vedremo in alcune immagini, e quindi facendo sì che il terreno venga sì usato, perché alla fine la pianta andrà a nutrirsi di quello che trova nel terreno, però usando un certo tipo di lavoro verrà continuamente rigenerato, perché continuando a immettere batteri positivi in un modo o nell'altro, dopo vi spiegherò come si fa a produrre alcuni tipi di batteri e gestendolo ad esempio con pacciamatura piuttosto che con elementi naturali che possono essere degli elementi a base di roccia, che possono essere caolino, argille varie, si tende a rigenerare, quindi a dare forza al terreno in modo che non venga solo sfruttato ma che abbia anno dopo anno in questo caso sempre la possibilità di dare forza a quelle che sono le piante che in quel punto devono crescere. Allora, questo ad esempio è un angolo di un vigneto e non è il mio questo, perché ho inserito questa foto perché mi era tornata comoda, ma è un altro amico sempre che sta lavorando con l'elettrocultura, un amico toscano, anche lui sta facendo sperimentazione che sta lavorando sia con l'elettrocultura sia con i microrganismi. Questa luce che vedete su questo menhir, questo si chiama menhir, noi in questo caso usiamo dei tubi di basalto, scusatemi, dei tubi di ceramica riempiti di basalto e quarzo. Cosa succede? Questo basalto e questo quarzo creano differenziale magnetico appoggiati su dei nodi di Hartmann, in questo caso, dopo andrò a spiegarvi un attimino a quello che sono queste cose, fanno sì che l'energia tellurica venga amplificata sopra, nella parte superiore e quindi che crei una specie di bolla che serve sia per quanto riguarda la gestione delle piante che sia per quanto riguarda la gestione del tempo, perché abbiamo visto nelle varie installazioni che ormai abbiamo fatto in giro per l'Italia, che dove sono stati posizionati dei menhir e sono stati messi bene, perché attualmente sta diventando quasi un po' una speculazione, tanti stanno provando a fare determinate cose ma senza avere grosse competenze, se un menhir viene posizionato realmente su un punto veramente forte, che può essere come vi accennavo, un nodo di Hartmann piuttosto che un nodo di Banker, piuttosto che un flusso di acqua sotterranea, ha un riverbero talmente forte che va a proteggere l'ambiente anche da eventuali dinamiche troppo invasive del tempo, nel senso non eviterà sicuramente la pioggia, fortunatamente, quindi questo non va a influenzare quello che è la pioggia, il sole o la normale attività del tempo, però abbiamo notato e l'ho notato io personalmente qui, che ad esempio non ho problemi di grandinate. A distanza di un chilometro e mezzo, due sulla destra e un chilometro e mezzo, due sulla sinistra e verso il basso, perché io sono a 550 metri sul livello del mare, negli scorsi due anni hanno quasi perso completamente i raccolti per le grandinate di fine agosto. Io fortunatamente non ho mai avuto questo tipo di problema e quindi anche questo può essere un buon modo per gestire questi improvvisi, chiamiamoli temporali, anche se si potrebbe aprire una dinamica un po' più ampia, ma lasciamola sul facile oggi e quindi può essere un grosso aiuto, perché negli ultimi anni realmente tante tante persone hanno perso gran parte del loro raccolto e magari essendo la loro fonte principale di reddito diventa realmente un problema. Qui facciamo vedere come in autunno, quando i greggi tornano verso i prati più bassi, diciamo, e quindi dalle nostre montagne dove passano l'estate e cominciano a scendere, mentre passano dalle nostre parti cerchiamo sempre di farle entrare nel vigneto, perché anche loro fanno il loro lavoro, entrano, mangiano, si nutrono, nello stesso tempo lasciano escrementi e per noi è un modo come un altro per portare concimazione all'interno del nostro terreno senza aggiungere concimazioni di chimiche. Questo è una cosa molto semplice che però ha il suo effetto e sicuramente ha un buonissimo effetto. Allora queste immagini, quella di destra, quella ancora con la luce, mi riaggancia un discorso di prima che ho tralasciato. Allora, sia nel menier di prima, sia in questa foto dove vedete il vigneto con una specie di arcobaleno, questi sono dei filtri, sono chiamati filtri di Oswald e cosa fanno questi filtri? Attraverso o la normale camera di un cellulare o una macchina fotografica fanno vedere la scomposizione di luce in quella zona e quindi la percentuale di energia che quel luogo contiene. Più limpida è l'immagine della luce, come quella che abbiamo proprio visto prima sopra il menier, più in quel punto l'energia è catalizzata, quindi c'è un'energia molto più ampia, molto più forte. Dall'altra parte invece vediamo due immagini che sono dei funghi che da noi di solito a inizio primavera e a fine autunno abbiamo lungo il vigneto. Perché i funghi? Perché una delle tecniche che utilizziamo è quella della pacciamatura. Abbiamo un contadino che ci vende la parte che non adopera della paglia di orzo che porta qui vicino alla birreria che abbiamo qui vicino a noi che è una delle birrerie più, anzi è la birreria più grande d'Italia, la pedavena. E quindi quando è primavera e quando è autunno i funghi cominciano a fare il loro lavoro, quindi cominciano a disgregare la cellulosa che è contenuta nella paglia. Cosa succede? La paglia che viene messa durante l'anno per pacciamare sotto le viti ci aiuta a non dover tagliare con il decespugliatore in interfilare, quindi a non colpire le viti che potrebbero rovinarsi e morire. Dall'altra parte creano un substrato dove i microrganismi, i lombrichi e quant'altro possono crescere tranquillamente e quindi arricchire il terreno. Come ultima cosa ma non meno importante questa paglia logicamente con il tempo andrà a degradare e quindi lascerà nuovamente sostanze sostanze nel terreno che serviranno per l'anno seguente per dare cibo alle nostre viti. I funghi in sé sono quel collegamento che aiuta la parte radicale della pianta a creare delle sinergie perché il fungo va a creare delle micro radici che va ulteriormente a collegare le piante perché le piante autonomamente in radice vanno ad avvicinarsi, quindi a colloquiare tra di loro si può dire. Però il fungo ha questa capacità di creare queste connessioni ancora superiori attraverso le piante e quindi noi abbiamo piacere di fare questo lavoro con la paglia proprio sia per il fatto della concimazione che della gestione del microrganismo sottofilare ma sia per quanto riguarda la parte dei funghi e delle micorizie. Allora qui in queste immagini qui vediamo c'è un'antenna che usiamo sempre con la parte di elettrocultura e dopo vi spiegherò un po' le dinamiche. Qui ci sono, si parte dall'idea di Cristo Flo che vi spiegavo prima che è il papà dell'elettrocultura però sono delle nuove antenne create usando i suoi brevetti che attualmente sono liberi perché sono scaduti nel 2012 mi sembra e quindi usando i suoi brevetti e ricostruendole usando alcune dinamiche che poi si sono scoperte più avanti. Quindi ad esempio questa invece di avere solo rame e ferro dolce come usava lui ha anche un piccolo magnete dietro e ha delle spirali. Le spirali che sono un'idea di un nostro studioso di Ghina che sosteneva che il sole invia energia verso la terra e questa energia scende con un movimento a spirale rotatorio. La terra tende ad accumulare questa energia e nel momento che ne è satura a rilasciarla con un movimento a spirare il contrario quindi anti-orario. L'incontro di queste due energie secondo Ghina crea la pulsazione della vita quindi l'atomo magnetico. Dall'altra parte vediamo la mia mano che sta preparando che sta mettendo dell'equiseto in un secchio per preparare del macerato e qua in questo caso facevamo del macerato di equiseto e di ortica. Di fianco dove vedete la paglia e quel bicchiere che sembra un bicchiere di birra invece stiamo creando del bocashi e quindi lì ci sono dei fermenti che verranno messi nella paglia e poi posizionati sopra in questo caso dei germogli raccolti nella vite e con il tempo si creerà un prodotto ricco di batteri e questi batteri serviranno sia per la concimazione a terra e sia per la concimazione fogliare delle nostre viti. E per ultimo in centro vedete un nido con qualche ovetto dentro e questo come accennavo prima per noi è sempre un bel riconoscimento perché vuol dire che anche gli animali che vivono qui nei dintorni trovano nel nostro vigneto la quiete e la pace che cerchiamo anche noi. Qui vedete in alto sulla sinistra la preparazione dei bocashi, ci sono dei secchi che vengono riempiti con questi dosatori che quando ogni due giorni di solito si tendono a svuotare per non lasciare i microrganismi all'interno del secchio e poi si riempiono dei secchielli o delle bottiglie che poi verranno utilizzate durante la stagione. Le foto in basso dove mi vedete mettere la paglia il discorso che facevo prima che è un discorso molto impegnativo perché per me sono tre settimane di ginocchio continuo però ha sicuramente dei grandi vantaggi sia dal punto di vista della gestione dell'ordine della pulizia sia come vi spiegavo prima per la gestione dei microrganismi, dell'umidità, della rigenerazione in generale del suolo e quant'altro. Invece con quella bottiglia in mano sto preparando un'alcolita a base di propoli perché all'inizio della stagione per disinfettare le vigne usiamo un'alcolita a base di propoli allungato nell'acqua e questo fa sì che la disinfezione della parte legnosa della vite sia fatta in maniera adeguata perché durante l'autunno le muffe tendono a nascondersi sotto la corteccia e quindi in partenza primaverile tendono sempre ad aggredire i nuovi germogli e questo è un metodo che abbiamo scoperto quest'anno attraverso un amico permacoltore della Sila e che abbiamo cominciato a utilizzare quest'anno. A parte il piatto centrale che è un dolce simpatico in alto abbiamo di nuovo quella alcolita che vi dicevo quindi vedete nel vaso la parte sotto è una raschiatura di propoli e sopra c'è questo alcol. Io ho usato il buon gusto perché per me le viti sono importanti. Il mio amico permacoltore mi ha detto che si può usare benissimo anche l'alcol quello rosa, quello classico per pulizie perché alla fine non dà problematiche visto che dopo va in evaporazione. Sotto potete vedere il vigneto a inizio stagione con la paglia sottofilare e una delle piante che abbiamo intorno perché intorno al nostro vigneto ci sono quasi 40 tipi di piante per un'idea di gestione di agricoltura sinergica e quindi abbiamo sparso lungo tutto il vigneto menta, elicrisio, lavanda, timo, timo selvatico, maggiorana, erba cipollina, aglio, rose particolari, fidocchietto selvatico, sì ce ne sono tantissime e queste ci aiutano a creare un po' di biodiversità perché per quanto il nostro vigneto sia piccolo, mezzo ettaro di vigna è sempre una monocultura e in natura non esistono le monoculture e quindi se vogliamo avvicinarsi a quello che è il discorso della natura dobbiamo cercare di creare biodiversità e per creare biodiversità noi cerchiamo sempre anno dopo anno di mettere nuove piante per creare questa diversità che dicevo e poi anche per sfruttare quelle che sono le loro capacità, le loro potenzialità perché ognuna di queste piante crea degli oli essenziali che possono aiutare a proteggere da qualche tipo di malattia e anche creano degli ambienti più consoni a certi tipi di insetti e magari più sfavorevoli a certi tipi di insetti creando quello che per noi dopo diventa il nostro sistema d'equilibrio. Allora adesso vi ho dato un'idea molto generale di quello che è il nostro tipo di lavoro. Adesso cercherò di spiegarvi un po' in maniera un pochettino più dettagliata alcune dinamiche. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì, io volevo chiederti una cosa perché ero rimasto incuriosito in un passaggio delle prime slide che avevi mandato riguardo ai nodi di Hartman che come sappiamo sono delle congiunzioni energetiche presenti in tutto il pianeta particolarmente forti possono provocare dei problemi che sappia quando vengono collocate lì per esempio delle abitazioni in cui è presente la camera dal letto o comunque zone in cui si vive e si opera eccetera. Tu in un passaggio di questo genere che cosa avevi detto attraverso il dispositivo? Che si potevano attenuare le conseguenze negative oppure che li sfruttavate energeticamente in un altro modo. È una cosa interessante questa mi sembra. Ok, allora dentro casa ci sono modi per neutralizzarla. Se un giorno porteremo avanti il discorso vi spiegherò anche questo. Per quanto riguarda noi e la gestione delle piante noi la sfruttiamo cercando di utilizzare questi punti geopatici facendo sì che attraverso come vi dicevo prima dei menhir riempiti di basalto e di quarzo quindi basalto pietra paramagnetica creiamo una... è come se creassimo come si può dire un punto che amplifica un determinato tipo di forza ok? Quindi andiamo a prendere quello che è la parte magnetica e la parte tra virgolette elettrica della Terra e attraverso questo nodo andiamo ad ampliare questa energia e quindi in questo caso ci viene comodo quel punto strategico proprio perché noi lo utilizziamo come punto per amplificare un'informazione. Ok? Essendo... è come dire... se io... come accennavi prima la rete di Hartman è sparsa in tutto il mondo. Ok? Se io uso... se io uso un qualcosa che in questo momento può essere il mio... il mio menhir lo riempio di determinate cose e gli do un'informazione e un intento cosa succede? Avendo questo... questo reticolo tra virgolette se noi andiamo a informare uno di questi nodi ok? Cosa succede? Che per espansione tutta la rete sarà informata di una certa cosa quindi quando io all'interno del mio vigneto attraverso quel menhir, attraverso il mio intento attraverso determinati tipi di pratiche do intento, forza a quel nodo faccio sì che quelle che sono le informazioni che io voglio dare di resistenza, di resilienza do informazione a tutta la rete circostante e quindi il vigneto verrà influenzato a sua volta da quelle che sono le informazioni che io in quel momento do in quel luogo specifico. ok? E quindi in questo modo noi andiamo ad utilizzare una cosa che di natura sarebbe un punto geopatico abbastanza fastidioso, almeno per l'uomo. Comunque lo è anche per le piante. È capitato più volte di vedere, andando a fare ricerca nei campi, nei prati o quant'altro, di trovare delle piante che crescevano in maniera, invece che eretta, in maniera obliqua. E abbiamo visto che crescevano in maniera obliqua perché magari di fianco c'era proprio un nodo oppure un passaggio di flusso d'acqua e quindi la pianta per proteggersi da questa cosa tende a crescere andando ad evitare quelle che sono le emanazioni di questi punti. Mi sono dato abbastanza una spiegazione. Perfetto, grazie, benissimo. È interessante questa capacità di trasmutazione di una geopatia in un'energia che può essere utilizzata invece ampliandola in maniera positiva e poi influenzare tutti gli altri nodi della rete. Quindi questa è una cosa molto molto interessante. Bene, allora ritorniamo invece al tuo racconto rispetto alle pratiche che sono tante, che tu hai elencato. Allora, come vi accennavo, principalmente lavoriamo con elettrocoltura, quindi con determinati sistemi che all'interno del vigneto incanalano meglio l'energia. Un altro sistema che fa sempre parte di questo mondo, tra virgolette, è la gestione del terreno. La gestione del terreno abbiamo molte pratiche per rigenerare il terreno. Uno è ad operare del basalto. Utilizziamo del basalto che come accennavo prima è una pietra paramagnetica che si è visto alla capacità di assorbire e poi rilasciare energia e quindi assorbe energia, rilascia infrarosso che nel momento in cui sottoterra e quindi la pianta va a nutrirsi di questo elemento infrarosso che questo minerale è capace di assorbire e poi di rilasciare. E quindi questa, diciamo, è una delle pratiche che utilizziamo all'interno del nostro vigneto. Ad esempio da me ci sono quasi una tonnellata e mezza di briciole di basalto sparse semplicemente in superficie. Dopo nel tempo scenderanno ma per me l'impianto era già partito quindi li ho sparsi in superficie. Un'altra cosa che utilizziamo, come vi accennavo prima, è la paglia che serve sia per la gestione dell'interfilare sia per la creazione di microrganismi e lombrichi sottofilari e quest'anno abbiamo cominciato con l'aiuto e con gli studi che abbiamo fatto presso l'Accademia di elettrocoltura e con un amico permacultore a produrre microrganismi. Quindi a parte il macerato che avete visto anche prima in foto, che quindi è solo una macerazione di una pianta in generale, noi usiamo ortica ed equiseto, prepariamo anche dei microrganismi che andiamo ad utilizzare all'interno del nostro vigneto sia per la parte superiore, per la parte fogliare quindi uno per proteggere dalle malattie fungine, due per dare più forza alla nostra pianta e ne utilizziamo uno a base di consolida maggiore per dare forza e cercare di ingrossare maggiormente gli acini. Questi microrganismi cosa vanno a fare? Nel momento che riusciamo a fare un trattamento e a portare questi microrganismi sulla pianta, questi microrganismi fanno la stessa cosa che il nostro microbiota fa per noi, quindi aiuta a trasformare microelementi, aiuta a rendere biodisponibili determinate cose. Nel momento in cui lo usiamo sulla parte fogliare, come vi accennavo, ci aiuta a difenderci dalle malattie perché? Perché nel momento in cui i microrganismi vanno a colonizzare la parte fogliare non resta più spazio per la muffa che non avrà più possibilità di prendere possesso di quel luogo, quindi sicuramente prima ci sarà bisogno di un bel lavoro di disinfezione e come accennavo prima noi facciamo a inizio stagione, a fine stagione in autunno, durante il periodo invernale e dopo in primavera, prima che cominci la vegetazione, con questo alcolita di propoli. E noi prepariamo questo alcolita di propoli che dopo un mese viene utilizzato, diluito in acqua e tramite degli atomizzatori, io di solito dopo quelli a spalla, avendo un piccolo vigneto, vado proprio a disinfettare. Dopo aver disinfettato la pianta posso cominciare i trattamenti con i microrganismi che di solito facciamo ogni due settimane circa, a seconda del tempo, perché essendo io molto fuori casa per l'altro lavoro, per il mio principale, mi adatto, però vedo che fortunatamente le piante capiscono le mie necessità e non mi creano più di tanti problemi. Allora, questi macerati, questi batteri, come dicevo, vengono utilizzati sia nella parte alta, quindi nella parte fogliare, che nella parte sottostante. Nella parte sottostante, avendo la fortuna di avere la paglia, non è tanta fortuna perché è lavoro, ma non importa, avendo la paglia abbiamo la possibilità di farli permanere di più, perché quando andiamo a buttare dei microrganismi sul terreno sicuramente vanno a colonizzare il terreno, però se riusciamo a dargli una parte di legnina, loro riescono anche a moltiplicarsi più facilmente, perché i microrganismi, in questo caso, con una base di legnina riescono a continuare a riprodursi in maniera più efficace e quindi questo è un altro motivo per cui noi continueremo facilmente in vigneto a gestire questa parte sottofilare, anche se dal prossimo anno penso proveremo a fare una specie di sovescio e quindi usare quella parte lì per creare la paglia. Io ci tenevo che questo tuo dire, tutta questa tua conoscenza possa essere trasmessa anche a grossi viticoltori, per cui magari ascolteranno la registrazione o si troveranno in video o magari qualcuno è presente. Volevo chiederti questo, secondo la tua esperienza, grossi viticoltori o comunque chi ha un grosso terreno dove ha piantato le viti, con cosa potrebbe, ma che magari non sa nulla di tutto quello che tu hai raccontato, con che cosa tu consigli di iniziare per fare una trasformazione dal metodo che hanno magari usato fino adesso a queste nuove possibilità, queste tecniche alternative. E poi l'ultima domanda era in che mese iniziare? Cosa intendi? In che mese iniziare Barbara? Perché sappiamo che, non so, adesso io non so esattamente che consigli potresti dare, no? Ok. Però, appunto, se mettere la paglia è una delle cose da cui potrebbero partire, è logico che gli si dice di mettere la paglia nel mese di X, no? Secondo il consiglio che dai, anche la stagionalità per cui iniziare, no? Magari vogliono fare un passo alla volta e se soprattutto chi ha tanto terreno lo può fare e che risultati potrebbe avere, ecco. Il primo passo in che mese è così, non so se mi sono... Sì, 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 ti senti benissimo, solo non avevo ben capito io la cosa. Allora, logicamente chi ha appezzamenti più grandi di terreno come degli amici che ho sia nel Trevisano che in Toscana e vi dicendo che hanno appezzamenti più grandi dei miei, logicamente il fatto della paglia diventa una cosa, ci può dire, impossibile da fare perché non è fattibile. Come dicevo prima, io ci metto tre settimane in autunno in ginocchio per mettere giù paglia perché è una mia cosa, è una cosa che piace fare a me, è una cosa che mi porto dietro da un'idea di biodinamica e quindi piace a me e va benissimo. Sicuramente si potrebbe lavorare, come dicevo prima con un sovescio, magari tagliato un po' più alto e poi portato verso il filare per evitare almeno per qualche tempo di dover tagliare sotto le file per creare un certo tipo di ambiente per la replicazione dei microrganismi. Però ti ripeto, diventa un lavoro un po' particolare per chi ha grossi, grossi appezzamenti che capisco, hanno dietro alle spalle un altro tipo di lavoro. Quello che ti posso dire è che sicuramente ha delle basi perché l'abbiamo visto attraverso l'Accademia di Elettrocultura e attraverso tante persone che stanno già lavorando con tecniche di elettrocoltura che chi parte per cominciare ad avere un certo tipo di riscontro deve cominciare a lavorare sicuramente con dei menhir che lavorano ad ampio spettro perché ad esempio un'installazione con due o tre menhir riescono a coprire quasi un ettaro di terra circa e quindi può anche di più però il lavoro maggiore è lì e quindi potrebbe essere un'installazione veloce che non crea molta difficoltà con delle persone che sanno quello che fanno e che quindi vedono un attimino dove è il terreno, com'è posizionato e quindi cercano di capire come mettere nel miglior modo questi elementi e poi con quello che è la gestione del terreno quindi a seconda di alcune analisi e qui sarebbe propenso fare alcune analisi per capire quanto quel terreno ha necessità di cosa e non parliamo di elementi chimici da aggiungere ma quanto quel terreno è ancora vivo perché se si fanno delle piccole ricerche che possono essere anche radioestesiche si prende un po' di terreno e si prova a vedere che tipo di vitalità ha ci sono dei terreni che hanno una vitalità del 20% signori e quindi come possiamo pretendere che delle piante su un terreno con un 20% di capacità di forza portino del risultato e quindi lavorerei sicuramente con i menir come accennavo e con un buon incremento di basalto sul terreno che questo sicuramente andrebbe a portare un po' di forza sul terreno il basalto oltre ad essere una pietra paramagnetica è anche un minerale che tende ad alcalinizzare il terreno quindi tante volte a seconda delle analisi tendiamo a usare basalto, quarzo o quant'altro perché ogni pietra tende ad alcalinizzare o a basificare il terreno quindi a seconda del terreno che c'è si fa un certo tipo di lavoro e poi con i microrganismi perché non creerebbero nessun tipo di problematica perché cominciando a spargere i microrganismi sul terreno sicuramente con l'apporto dell'elettrocultura che porta la parte energetica e con la parte dei microrganismi che cominciano a creare vitalità nel terreno cominciamo ad avere una buona partenza e quindi potrebbe essere che con solo queste due barra tre accortezze si possa cominciare già in breve tempo a vedere dei cambiamenti nelle proprie lavorazioni queste secondo me potrebbero essere le cose più immediate dopo tutto quello che è macerazione e queste cose qua dopo diventano molto a persona però per chi ha grossi appezzamenti penso che questi tre elementi siano la cosa più comoda su cui cominciare visto anche alcune esperienze di amici che hanno fatto qualcosa del genere allora io personalmente ho il vigneto il mio vigneto è nato in elettrocultura perché aveva solo un anno quando ho conosciuto Andrea e abbiamo messo giù l'impianto quindi personalmente non ho un paragone non ho una parte di vigneto in elettrocultura e un altro no quindi da un certo punto di vista sono di parte nel senso che come vi dicevo il mio vigneto è sempre stato impostato in elettrocultura non è il mio lavoro principale quindi non sono un grosso conoscitore delle vigne lo sto diventando con il tempo sono cresciuto insieme alle mie vigne posso dirvi che le persone che sono venute un pochino sia a insegnarmi che ad aiutarmi a capire alcune dinamiche per gestire il vigneto mi hanno detto e me ne sono accorto io personalmente che per avere 5 anni hanno veramente sviluppato un bel tronco e stanno reagendo bene anche a tutte quelle che sono le problematiche che negli ultimi anni si stanno riversando un pochettino sul nostro territorio penso come in tanti altre parti d'Italia però io conosco questo e quindi mi accorgo che questi mesi continui di piogge e queste grandinate autunnali stanno creando molti problemi da questo punto di vista a parte la forza della pianta che ripeto sta crescendo veramente in maniera importante stiamo notando questa capacità di gestione un po' del tempo e quindi di non avere queste grosse problematiche di grandinata e per quanto riguarda il raccolto io sono soddisfatto e credo di avere un ottimo rapporto sia in quantità che in qualità perché l'uva ha sicuramente delle caratteristiche organoretiche importanti ha dei profumi secondo me molto buoni e percentuali di zuccheri anche abbastanza elevati nonostante siamo in montagna si può dire siamo sotto le montagne del Bellunese quindi sotto le Alpi Bellunesi e quindi direi che gli aspetti maggiori che ho notato con l'utilizzo dell'elettrocultura sia la parte del tempo che quella della forza e della produzione della pianta l'anno scorso come vi ripeto i miei vicini purtroppo per sfortuna per quello che volete voi non sono riusciti a raccogliere per queste grandinate autunnali noi con 3500 metri di Solaris abbiamo raccolto 37 quintali di uva quindi sì sicuramente abbiamo un impianto importante perché in questi 3500 metri abbiamo dentro 3700 piante perché lavorandolo esclusivamente a mano abbiamo degli interfilari quindi la distanza tra una fila e l'altra di un metro e sessanta quindi abbiamo un vigneto impostato per lavorazione a mano però vi ripeto sicuramente ci sono dei vantaggi sia dal punto di vista della forza della pianta sia per quanto riguarda la produzione e il contenuto del frutto e quindi questo principalmente è quello che noi notiamo per quanto riguarda un'affermazione che hai fatto prima perché mi piace essere il più corretto possibile per quanto mi riguarda e quando me ne accorgo non abbiamo cambiato nulla di quello che è la gestione di ghina nel senso che prima c'è navi di ghina e del miglioramento delle cose dicendo noi abbiamo preso quelle che sono le antenne di questo Christophe Loh di questo Etienne Christophe Loh francese che lavorava solo con differenziale magnetico e abbiamo aggiunto ai suoi dispositivi quelle che erano le antenne, le spirali di ghina perché credendo in questa sua affermazione dell'energia che scende che è l'energia che sale in senso di spirale abbiamo voluto invece che lasciare delle dinamiche di fili che aveva Christophe Loh abbiamo utilizzato la parte del nostro studioso e abbiamo addizionato le due cose creando un'antenna che portasse avanti tutti e due i principi come diceva Ghina queste due energie che si incontrano creano l'atomo magnetico che secondo Ghina era la vita perché unendo quello che era la parte la parte derivante dal cielo quindi la parte blu con la parte, adesso non vorrei dire una stupidaggine blu e giallo blu e la terra, giallo del sole si crea il verde quindi tutto quello che vediamo intorno a noi quindi questo era il principio fondamentale di Ghina e quindi noi cerchiamo di portare avanti queste informazioni questi studi che nel tempo per un motivo o per l'altro sono andati sparendo come tante dinamiche che permettevano all'uomo di essere autonomo su determinate cose invece di dipendere sempre da industrie che producono una cosa piuttosto che l'altra quindi la nostra ricerca principalmente è quella di tornare al naturale all'uomo e di rimettere un attimino noi e la natura al centro di tutto questo un attimino sono i presupposti che cerchiamo di portare avanti sia nel vigneto e sia come vi ho accennato prima nella parte di olistico che viviamo a casa bene allora siamo in conclusione Barbara diciamo che Renato Cervo stasera ci ha dato una panoramica interessantissima di come si possono integrare tante cose insieme no? perché poi in realtà abbiamo visto che lui insieme alla moglie lavorano i loro vigneti utilizzando tante cose appunto dall'elettrocultura ai microrganismi la pacciamatura addirittura i menhir che creano questo differenziale energetico per poter come dire trasmutare le geopatie provenienti dal terreno quindi tutto molto interessante no? esatto infatti è veramente una fonte di meraviglia spero presto appunto di venirti a trovare e io ringrazio Sara che mi ha permesso di conoscere la tua realtà Sara Fadovan che è una nostra sorella del popolo per cui speriamo di poter ampliare oppure se ci fosse qualche viticoltore che fosse interessato ad avere più informazioni se ci volesse contattare così se tu sei disponibile diciamo per per espandere far conoscere un po' quello che tu sai e fare del bene sul nostro sul nostro pianeta assolutamente assolutamente no grazie se se io ringrazio voi tanto per la possibilità di portare almeno due idee che sono state messe molto molto random un po' un po' un po' là se se ci fosse la voglia di molto volentieri magari si potrebbe fare qualcosa e potrei darvi un po' di percentuali numeri e quant'altro per chi avesse voglia di crearsi microrganismi piuttosto che macerati piuttosto che alcoliti piuttosto che tanti tipi di cose che possono servire sia per impianti come il mio ma anche per chi ha il giardino di casa perché i microrganismi vanno benissimo anche su un giardino di casa non è che per forza bisogna avere un impianto grande vi dicendo e per quanto riguarda l'elettrocultura una spirale può essere benissimo inserita in un vaso in un vaso in terrazza per far crescere un pomodoro per far crescere meglio un fiore e quindi si notano veramente delle differenze grandi che poi lavorano sul nostro mentale e ci permettono di aprire le nostre visioni che principalmente questa è la cosa importante il permetterci di aprire un certo tipo di idee e di non restare vincolati a quello che ci è stato detto volevo ringraziarvi e dire come mi sento mi sento come quando ero bambina e ti raccontavano una meravigliosa una meravigliosa storia per cui rimani a bocca aperta per l'amore che sei riuscito a trasmettere e che agisci col tuo fare Renato quindi una meraviglia io ti ho ascoltato con molta attenzione e con molto stupore proprio meraviglia mi è proprio hai conquistato proprio la mia attenzione sei l'unica che ti ringrazio sei l'unica che ha già che ha già idea di quello che di cui sto raccontando essendo già passata a trovarmi dai è l'unica che può agganciare al racconto anche effettivamente la sensazione di benessere che si respira e di amore sì e ti ringrazio e ci vediamo domani ok ciao grazie a tutti grazie Joe per l'occasione ciao grazie a te Sara grazie gentilissimo grazie bene allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento a questo punto al non mercoledì prossimo perché ci sarà l'evento di decollatura sulla legge naturale quindi io sarò lì anzi invito tutti a partecipare siamo ai sgoccioli di questo di questo appuntamento che inizierà dal 3 al 7 luglio e per cui riprenderemo poi il mercoledì prossimo 10 luglio con un appuntamento molto importante con un gradito ritorno quello di Andrea Maggi che ci parlerà della situazione delle resign in Vercellese e anche purtroppo della situazione degli espropri dovuti appunto alle installazioni dei parchi fotovoltaici e quindi sarà è un argomento di cui avevamo già discusso nei mesi scorsi e che riprenderemo con Andrea proprio per capire a che punto è la situazione e quindi ci darà degli aggiornamenti quindi io ringrazio tutti Barbara Renato e tutti quelli che hanno partecipato e che vedranno questo video e do appuntamento appunto a mercoledì 10 luglio prossimo grazie a tutti e buona serata grazie a voi grazie a voi grazie Renato ciao ciao grazie buona serata ciao 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 Grazie a tutti.